Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come sentito dai titoli, apriamo il telegiornale occupandoci di politica e il PD Altoatesino verso il rush finale delle primarie tra tensioni, ricorsi e ritiri di candidatura, la segreteria del partito come quella di Vanda Carbone. A Merano intanto è giunto anche l'onorevole Fassino. Il 25 ottobre prossimo si terranno in tutta Italia le primarie del PD per scegliere il candidato alla segreteria nazionale tra Bersani, Franceschini e Marino e in Alto Adige anche la segreteria provinciale Altoatesina. Una segreteria che pare ormai avere un unico protagonista locale, il chirurgo Antonio Frena. Infatti stamani, mentre nella sala del Pavillon de Fleur di Merano era in corso un'iniziativa pubblica del PD Altoatesino con ospite l'onorevole Piero Fassino, a Roma la commissione del PD nazionale che si occupa dei ricorsi, ha pronunciato il proprio verdetto in merito alla candidatura di Vanda Carbone. In sostanza la commissione di garanzia del partito ha ritenuto inammissibile la lista della Carbone nel collegio di Bressanone per Bersani con Vanda Carbone. La sfidante, con un comunicato, ha voluto precisare L'esito del ricorso che riconsegna agli organismi locali la competenza e la responsabilità del procedimento congressuale mi induce al ritiro della candidatura. Nella situazione attuale, con l'esclusione della lista a Bressanone, non esistono più le premesse per una competizione democratica e alla pari. La mia candidatura è stata boicottata fin dall'inizio con regole, comportamenti e iniziative che avevano come unico obiettivo quello di ostacolare la partecipazione. Intanto, nella sala meranese, l'onorevole Fassino, affiancato dal segretario uscente del PD altoatesino Antonio Frene e dall'onorevole Gian Claudio Bressa, ha spiegato ai presenti quanto sia importante la partecipazione della popolazione alle primarie del 25 ottobre. Si realizzerà un evento partecipativo democratico enorme, milioni di persone che parteciperanno alla scelta del leader del PD. Abbiamo alle spalle già un percorso congressuale lungo che ha dimostrato la vitalità del nostro partito abbiamo fatto più di 7.000 congressi di base, hanno partecipato un mezzo milione di iscritti e adesso ci rivolgiamo non solo agli iscritti ma a tutti i nostri elettori e quindi sarà, credo, qualcosa di utile non solo per il nostro partito ma per rendere più credibile e più forte la democrazia e le istituzioni democratiche e il rapporto tra cittadini e la politica. Io mi auguro che Franceschini raccolga quel consenso grande che gli consente di continuare a fare il segretario perché credo che sia la scelta più giusta e migliore.